clamorosamente saltato il trasferimento di Lazar Samaric all'Inter tutte le fonti ormai sono di fatto d'accordo nel dire che la trattativa si può considerare definitivamente interrotta e dunque Samaric rimane all'Udinese che ora dovrà decidere che cosa fare e all'Inter invece adesso oltre a tornare a casa Fabian che quindi per il momento almeno non si trasferisce ad Udine bisogna capire bene anche che cosa succede adesso perché a due settimane dalla chiusura di questo calciomercato estivo qualcosa può ancora succedere o almeno personalmente me lo auguro ne parliamo in questo episodio di oggi amiche ed amici passioni interisti ben ritrovati innanzitutto vi chiedo subito di lasciare un bel mi piace e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti e aiutate il nostro progetto a continuare a crescere io direi di parlare subito di Samaric di andare con ordine molto brevemente faccio un riepilogo a chi si fosse perso le ultime puntate detto che abbiamo già approfondito tutta la questione nelle ultime dirette quindi non torno su tutti i dettagli voglio solo ricordare che inter e udinese si erano di fatto messe d'accordo su questa operazione grazie anche al lavoro all'intermediazione di un agente la manager abbastanza famosa raffaella pimenta che aveva portato quindi questa operazione alla fumata bianca il tanto che il giocatore il 10 agosto scorso va a milano a svolgere le visite mediche ma il giorno dopo le visite mediche nella sede dell'inter si presenta il papà con la sua agenzia ed il suo entourage senza la manager raffaella pimenta un incontro con l'inter che non porta ad un accordo definitivo e anzi si aprono di fatto delle nuove trattative perché questo è nelle ore successive sono emerse poi varie versioni fino a che è subentrato poi anche un nuovo agente che avrebbe dovuto fare da mediatore diciamo per portare comunque l'operazione alla chiusura alla fine però l'inter annuncia di aver deciso di interrompere le trattative c'è chi dice addirittura che lo staff del calciatore avrebbe anche accettato tutte le richieste dell'inter alla fine dopo vari giorni di attesa proprio nella serata del 15 agosto proprio mentre il direttore sportivo dell'inter piero ausilio intercettato da sporta italia da sporta italia stava pubblicamente dicendo che le ricostruzioni che sono uscite sulla stampa sono di fatto attendibili c'era un accordo con l'udinese ma poi dice ausilio samarzic ci sono stati parecchi cambiamenti da parte di samarzic questo è la frase di ausilio e almeno per il momento questa cosa che il giocatore avesse accettato tutte le condizioni dell'inter non risulta o almeno a me non risulta ma anche fosse io innanzitutto sono convinto che la storia fosse già finita prima di stamattina o di ieri la gente di sensi che già lunedì sera dice che la permanenza di sensi è più di una possibilità mi è sembrato un indizio di cui tra poco parliamo ma poi voglio fare quattro considerazioni su questa vicenda e su questo caso primo punto sicuramente l'inter perde una grande opportunità perché io ritengo che samarzic sia un elemento un giocatore molto interessante un grande talento e che molto probabilmente già tra un anno o al massimo due varrà molto di più quindi nell'ottica di un impatto tecnico subito ed economico in un secondo momento era un grande affare secondo punto che il giocatore faccia le visite mediche incontri tifosi e poi l'affare salta fuori da ogni dubbio è un'altra cicatrice in un'estate in cui comunque sono successe diverse cose che hanno fatto discutere allo stesso tempo però punto numero tre è abbastanza evidente ormai che non salta per colpa di un malinteso o di una sciocchezza o un qualcosa da niente su cui l'inter ha voluto imporre questioni di principio a tutti i costi o almeno per come la vedo io per quanto si possano criticare alcune cose si commettono degli errori si vuole criticare l'inter e tutto quello che volete rimane l'inter comunque una grande società che lavora con professionisti ed intermediari di esperienza nel momento in cui subentra una figura che non è un professionista riconosciuto visto che ha bisogno di un altro agente a fianco per poter fare la trattativa e cambia le carte in tavola in questo modo non può esserci quel rapporto di fiducia e di lavoro necessario per concludere bene l'operazione e ma anche per evitare poi altri casi simili non solo questo quindi considerando che samartic tra l'altro non è nemmeno nuovo nel senso che non è la prima volta che si ritrova in situazioni un po' delicate di mercato nonostante una carriera molto giovane ecco sinceramente condivido la scelta di andare poi a terminare questa operazione in questo modo allora qualcuno a questo punto mi dirà anche però l'inter con i soliti procuratori si accorda sempre paga le commissioni evidentemente dico io con i soliti procuratori si sono trovati a lavorare bene e non significa quindi lavorare bene che hanno solo portato un calciatore che ha reso bene o meno significa anche tante altre sfumature e penso che oggi questa cosa sia ancora più evidente punto numero 4 ho visto adesso scrivere sui social anche su passion inter in molti cose come se abbiamo risparmiato anche da questo affare samartic adesso allora mi aspetto un investimento forte mi aspetto un bel colpo a sorpresa in questo finale di mercato bisogna direttare di lottare i soldi su un altro acquisto da fare capisco il tifoso che lo dice ma non è così semplice e invito tutti ad andarci cauti per un motivo samartic era un'operazione impostata in prestito oneroso con obbligo di riscatto tra l'altro all'udinese sarebbe andato fabian quindi diciamo che l'impatto sui conti nell'immediato sarebbe stato molto ridotto mettiamola così poi il grosso sarebbe stato l'anno prossimo e o comunque di ci sarebbe stato un dilazionamento ecco non aspettiamoci quindi almeno secondo me grandi risorse da poter investire su un colpo a sorpresa da prendere dall'estero eccetera perché è evidente che l'intra sta impostando questa estate tutta su formule con dilazionamento impegno finanziario con esborso economico rimandato lo fa per dei motivi economici stringenti l'inter è in difficoltà economica e lo dicono i bilanci e lo sappiamo il bilancio permette questo e a meno che nelle ultime due settimane di agosto con le squadre più pressate dal dover vendere quindi non si possono aprire degli spiragli per trattare a magari anche i giocatori che si sono trattati prima ma con delle formule diverse cosa possiamo aspettarci più realisticamente ora almeno secondo me al centrocampo c'è una casella da riempire senza samargic senza samargic ecco le soluzioni prevedibili in questo momento a meno di occasioni che si aprano a sorpresa sono due allora la permanenza di sensi che è una possibilità a cui dedicheremo un approfondimento specifico nelle prossime ore oppure l'ingaggio di roberto pereira dell'udinese ex udinese anzi visto che adesso è svincolato è un giocatore che l'intra aveva praticamente bloccato a inizio estate oggi ancora senza contratto sarebbe forse un'altra copia rispetto ai centrocampisti che abbiamo in rosa non un nome futuribile né clamorosamente esaltante ma è l'unico scenario credibile alternativo a sensi almeno di clamorosi colpi di scena con occasioni che si presentano all'improvviso personalmente non credo molto alla permanenza di fabian che anzi a questo punto o va in prestito secco in serie a per maturare esperienze in serie a oppure può diventare una pedina da inserire in un altro affare da fare sempre però immagino in serie a con una struttura simile appunto a quella che era stata impostata con samarcic e andando a logica un affare simile si potrebbe impostare o trattando di nuovo con l'udinese per beto visto anche che l'udinese aveva comunque programmato di fare una cessione pesante e se non sarà samarcic potrebbe essere beto oppure qualche spiraio con la salernitana con cui ci sono buoni rapporti per arrivare a quel nome di a che tanti dei tifosi interisti vedo che sognano da quello che mi scrivete però sono entrambi degli attaccanti e dipendono sempre da correa secondo me perché dubito fortemente che mettano in squadra cinque punte quindi se non esce correa rimaniamo bloccati rimangono bloccate anche queste possibilità fuori dall'attacco la priorità per me è sicuramente la difesa oggi nel club di passione inter stavamo discutendo e il nostro simone ha scritto una cosa che condivido e che capisco nel senso anche sulla difesa siamo partiti prima si parlava di pavar poi naccio a spi di queta che erano due buone opportunità parametro zero addirittura culibali cialoba poi tomigliasso eccetera eccetera adesso addirittura sentivo da sky c'è chi dice che con carlos augusto e di marco che si possono adattare anche a fare il terzo dietro bastoni potremmo essere a posto così a centrocampo è successa un po la stessa dinamica con i vari nomi samarzi c'è poi la possibile permanenza di sensi in attacco dopo i tanti nomi fatti c'è stato l'arrivo di arnautovic un arrivo che tecnicamente per me ci sta e rende l'attacco abbastanza competitivo per il campionato in difesa soprattutto però è vero che bisogna migliorare la fase difensiva di squadra innanzitutto e bisogna ridurre i 42 gol facendo un buon lavoro anche di squadra ma si sta ripartendo per una nuova stagione confidando che tanti elementi ripetano una stagione come quella dell'anno scorso che per molti è stata forse straordinaria o comunque è stata molto positiva e la mia preoccupazione è che a proposito di stagione che sta per partire stia per partire una stagione in cui l'equilibrio in testa tra le prime cinque sarà tanto e se fai bene può essere un bene questo grande equilibrio perché puoi rimanere lì a competere poi tirare fuori un gran risultato se ti si inceppa qualcosa però chiaramente diventa un diventa un rischio e allora iniziare la stagione con diversi jolly che tappano più cose o comunque una coperta corta un po è chiaramente una delusione dopo un avvio di mercato in cui invece si stavano facendo anche delle scelte forti e anche una progettualità molto interessante vediamo adesso che succede ci saranno sicuramente delle novità nelle prossime ore per cui vediamo in diretta alle 19.30 ci rivedremo e leggeremo tutti i commenti e faremo il punto della situazione insieme fatemi sapere voi che cosa ne pensate qual è secondo voi la priorità del mercato dell'inter ora una volta saltato Samaric che cosa bisogna fare assolutamente a tutti i costi vi aspetto nei commenti vi lascio in descrizione per chi ci per chi ci segue in podcast anche un altro approfondimento da non perdere link in descrizione per chi ci ascolta in podcast mentre per chi ci segue da youtube vi basta cliccare qui iscriviti al canale